la puglia non ti lascia mai solo di franco arminio amo la puglia perché amo la luce e la puglia è sempre piena di luce due colori il bianco e giallo e poi il colore della terra a seconda delle stagioni amo la puglia perché c'è aria di terra non ci sono luoghi turistici ma luoghi veri dove arrivano i turisti in puglia mi sento bene non ti porta alla mestizia alla cupezza stare in puglia in effetti significa sottoporsi a una cromoterapia e forse anche il carattere degli abitanti ha il suo ruolo il pugliese per esempio non è spinoso come l'irpino e poi ci sono le differenze enormi dovute alla storia più che la geografia a trani non sono come ad andria i tarantini sembrano più vicini ai napoletani che ai leccesi la puglia non dovrebbe essere solo una meta ma una sorta di seconda regione così come alcuni possiedono la seconda casa allora si sta in emilia e in puglia si sta nel lazio in puglia e com'è se ogni regione italiana mancasse di qualcosa che invece è possibile trovare qui dico questo senza prove solo sulla base del mio continuo girare per l'italia ci deve essere da qualche parte un luogo su cui potremmo essere d'accordo qualcosa che sta bene a tutti questo luogo potrebbe essere la puglia si potrebbe dire che sta all'italia come la lucertola al coccodrillo l'italia nazione di grandi differenze ha al suo interno una regione che a sua volta contiene grandi differenze e allora viaggiare in puglia è essere qui e altrove essere nel centro e nel margine avere la modernità e l'arcaico insomma io sono contento di avere la puglia a 20 minuti di macchina a casa mia è un buon motivo per continuare a vivere dove vivo il paesaggio non è mai nascosto non ci sono grandi vallate e monti acuzzi la murgia è un cavallo basso c'è il piacere di vedere grandi pezzi di terra senza capannoni e officine il gargano è una vasta nuca sassosa che non sembra avere rapporti col corpo della regione se proprio si vuole trovare una mancanza alla puglia è la dimensione verticale l'elemento della ripidità i paesi le città stanno sul piano stanno su una terra ferma e antica una terra che non trema ecco un'altra differenza rispetto alle vicine regioni meridionali manca la distruzione dei terremoti manca quel senso delle cose appena rifatte che ti coglie in calabria la puglia ha dei bellissimi centri storici concede alla bruttezza solo l'obolo del lembo esterno dei paesi e delle città è una bruttezza mai clamorosa una bruttezza mitigata dalla campagna l'italia non deve mai dimenticare le virtù della campagna la naturale resistenza all'omologazione che hanno i luoghi dove si lavora la terra comincio il mio viaggio pugliese dall'euca perché sono attratto dalle cose che finiscono e all'euca finisce qualcosa ricordo una giornata d'inverno col mare grosso come il cuore in gola l'euca è un gomito quando riprendi la marcia hai subito la sensazione che è cambiato il braccio la strada non è più un pezzo di spiaggia asfaltato ma un graffio nella roccia dall'euca puoi andare verso gallipoli lungo lo ionio o puntare verso otranto verso l'adriatico che a rigore comincia proprio dopo otranto oppure puoi cercare il centro della ragnatela verso maglie in effetti i paesi del salento con tutte le strade le stradine che li congiungono fanno proprio pensare a una ragnatela si può immaginare il salento come un grande orto circondato dal mare e con tanti paesi dentro terra di contadini più che di marinai penisola di luce penisola limitata dal vento dopo le case delle periferie sempre compare una piazza bellissima con una chiesa bellissima con palazzi padronali bellissimi può essere un paese piccolo grande ma può essere pure una frazione e allora si può vagare senza far caso alle mappe senza avere mete definite quando si è stanchi della pietra lavorata uncinetto si può entrare in qualche chiesa e ammirare gli affreschi a galatina o il cristo a galatone oppure cercare il mare sapendo che ci vuole pochissimo a trovarlo e allora da specchia a presice da alessano a patù si può arrivare a pescoluse o a portobadisco si può scegliere la sabbia o gli scogli oppure si può risalire velocemente verso lecce dove la luce e la sono in perenne luna di miele se si lascia il salento non si rimane orfani della bellezza ogni paese del brindisino rivela un suo frammento luccicante e c'è una costa comoda e poco affollata ti fai un bagno e riparti non trascurare brindisi che insieme a taranto è la città che ha pagato il più alto alla modernità industriale taranto merita una visita a parte città di freggi e sfreggi la città vecchia ha un fascino enorme a tratti sembra una città bombardata ma poi sul fondo di un veicolo spunta il mare e la sagoma di una grande nave è la patina dell'antico a colpire la fraternità dei palazzi in bilico in qualche modo simili alle nostre ferite nessuna città italiana assomiglia a taranto città isola in cui la bellezza rubata alla fine riappare il mare è da ogni parte ma se ti allontani di poco sei già a massafra a grottaglie a martina franca a ceglie a ostuni a oria a fasano all'ocorotondo a cisternino questa è la puglia firmata con un paesaggio che si sta facendo fin troppo fitto di trulli e case vacanza per trovare un paesaggio bello ma meno griffato bisogna andare verso noci siamo nel cuore della puglia piccola capitale della gastronomia in una regione dove si mangia bene ovunque da noci si può tornare verso il mare verso monopoli verso la fama di polignano o si può scegliere l'interno verso le meraviglie della murgia dove già si sente il sapore dei silenzi lucani è bella questa adiacenza tra la puglia e la lucania lungo il confine tra le due regioni il paesaggio è pacatamente meraviglioso ecco gravina molto simile a matera nella sua parte antica la collana di perle della murgia può proseguire infilando altamura e poi minervino paesi e paesaggi rurali e poi lo stupore di castel del monte l'impero in mezzo alla campagna il viaggio potrebbe finire qui ma la cattedrale di trani è troppo vicina ed è vicina anche quella di canosa di ruvo e di pitonto e poi c'è da vedere bari la città vecchia che ha perduto in poco tempo la sua cattiva fama più che un viaggio sembra un fuoco d'artificio la bellezza non ti lascia neppure nella provincia di foggia è solo che qui le distanze tra un gioiello e l'altro sono maggiori prima di salire sul gargano ti puoi fermare a siponto dove un giovane artista edoardo tre soldi ha ricostruito con la rete metallica la struttura della basilica monte sant'angelo è un paese capolavoro e poi si può scegliere l'orlo marino passare dentro il promontorio tra terre aride e boscose le bellezze note della costa come rodi e peschici si alternano con quelle più nascoste dell'interno vico sannicandro sempre la stessa regola centri storici fascinosi periferie da rignano si può guardare una pianura perfetta come un biliardo ma se si scende per andare a vedere lucera non si può trascurare la cattedrale di troia con il suo superbo rosone a questo punto si apre il capitolo dei monti dauni 30 paesi poco conosciuti lungo il confine col molise con il sannio e con l'ilpinia qui il viaggio diventa anche un viaggio nelle tipiche atmosfere dell'italia interna bellezza ed esolazione il museo diffuso delle porte chiuse eppure nessuno di questi paesi delude va bene orsara vanno bene bovino deliceto pietra monte corvino biccari candela ascoli satriano sant'agata volturino celle di san vito celenza alberona si tratta solo di scegliere il verso da rocchetta sant'antonio a carlantino sei sempre in uno di quei paesi di cui si dice che non c'è niente e invece c'è tanto insomma esistono puglie per tutti i gusti ci sono anche le isole tremiti ma c'è un fiocco che tiene insieme il tutto e questo fiocco è la luce ricordo un mattino di ottobre a portobadisco raramente ho sentito una mattina tanto perfetta e poi tornando verso l'albergo ho visto i monti dell'albania sorpreso dalla loro maestrosa vicinanza un altro momento perfetto la puglia me lo ha regalato la prima volta che sono stato a erdonia una piccola pompei nascosta dietro una banale casa di campagna sono un viaggiatore ansioso ma questa terra mi calma ricordo la commossa gratitudine davanti alla bella tomba di don tonino bello ad alessano e poi il piacere di stare nelle piazze pugliesi quelle note come nardò e tricase quelle anonime come san michele di bari ma tutte piene del tranquillo vociare di vecchi contadini poi ci sono i luoghi come albero bello e c'è il piacere di scoprire che anche un paese senza fama di bellezza come putignano in realtà ha un notevole centro storico è questo il punto in puglia ogni paese piccolo grande ha una sua perla melpignano è bella anche quando non c'è la notte della taranta barletta e morfetta conciliano il commercio con una buona tenuta estetica ecco la puglia è la dimostrazione che al sud si può incrociare intensità ed efficienza qui la noia non alligna da nessuna parte ancora una volta forse è merito della luce e del cibo fatto è che questa terra ti tiene non ti lascia mai solo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti